E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche questa sera andiamo a inserire il nostro update serale riguardo all'analisi tecnica legato ai mercati finanziari in particolar modo ai mercati di criptovalute è successo di tutto nella giornata di oggi dai dati dell'inflazione USA del dollaro dai dati on chain abbiamo da parlare di un sacco di cose cercherò di essere stretto arrivare detto al punto come sempre si fa piacere ricevere questi contenuti il mio invito è quello di lasciare un bel mi piace mi aiuta tanto inutile a dirlo e se siete nuovi vi invito a iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati contenuti time sensitive un sacco con molta continuità quindi vi invito appunto a osservarli se vi piacciono e non voglio perdere altro tempo date un'occhiata ai link che trovate sotto in iscrizione per MXBT insomma un po' di tutto li tengo aggiornati e partiamo allora oggi abbiamo avuto da un punto di vista di analisi tecnica un buon bounce un bounce di continuazione è chiaro che nella condizione attuale non siamo in una zona safe ancora ok non siamo in una zona di comfort abbiamo avuto un recupero di livelli chiave ancora però abbiamo dimostrato che la difesa di questa zona qua per il momento è stata confermata da parte dei bullse quindi hanno difeso la zona dei 40.000 dollari in maniera molto aggressiva non ci sono volumi eccezionali non c'è non voglio dirvi cose che non sono quelle che vedo dalle chart non ci sono volumi incredibili ma non per forza dove non devono esserci volumi clamorosi per confermare dei movimenti ok quindi ragazzi non fissiamoci sui volumi non è l'unica misurazione sicuramente ci fa piacere vederli per una conferma ulteriore ma non è ok necessario per forza avere dei volumi eccezionali altrimenti non si va a nessuna parte l'analisi tecnica ci serve per essere guidati per avere una traccia poi è chiaro che nel sentiero gli imprevisti ci sono sempre ok quindi questo non dobbiamo non deve forbiarci prima di passare analizzare un attimo la chart voglio farvi vedere un dato importante un dato che non si registrava da parecchio tempo negli ultimi due mesi almeno che è quello degli outflow l'ultimo outflow rilevante molto elevato è stato l'outflow del 7 dicembre di 20.000 bitcoin oggi meglio nella giornata dell'11 gennaio quindi ieri si è registrato un outflow pari a quasi 30.000 bitcoin ed è un dato molto importante molto interessante perché guardate l'andamento nonostante il prezzo stia calando i bitcoin stanno fuoriuscendo allora è per quello che io lancio un po' una provocazione se vogliamo un titolo un po' provocatorio ovvero è una trappola non è come ci stanno bleffando ci stanno facendo scendere il prezzo mettiamola così da un punto di vista anche di derivati per farci credere che la run sia finita io non sarò a rispondere a questa domanda lascerò a voi la risposta perché non do consigli non voglio influenzare nessuno però vi faccio vedere questi dati e questi dati sono abbastanza forti questi non sono signori retail a mio parere ok 29.300 bitcoin fuoriusciti dagli exchange e se moltiplicate 29.371 per 42.738 fate i conti io non credo che siano piccole entità ok quindi qualcuno sta facendo shopping su questi livelli di prezzo qualcuno gli sta portando fuori e questo dobbiamo considerarlo non è non è lo ripeterò grande come una casa faccio un cartello questo non significa che domani mattina si va to the moon nuovi all time high ok ma questo è un segnale forte che ci fa intendere che cosa però sta accadendo a livello on chain le riserve degli exchange sono minimi storici e solitamente questo porta nel medio periodo un andamento positivo nel medio periodo mediamente ok quindi pesate le parole che vi sto dicendo però è chiaro che questo è un indizio che non si può trascurare l'inflazione oggi sono usciti i dati ok attesa come da mercato quindi i mercati hanno agito bene perché era il parametro che più o meno si aspettavano è molto alta è il record degli ultimi 30 40 anni di storia del dollaro ma era un dato atteso e quindi quando i mercati hanno un dato atteso hanno un dato che è nelle aspettative si va avanti tranquillamente non c'è incertezza perché il dato è già scontato nel prezzo quindi a maggior ragione capite che il meccanismo torna da un punto di vista tecnico e passiamo un pochino all'analisi quello che è accaduto è un bounce tecnico che ci si poteva aspettare vi dico non siamo ancora salvi ma il mio primo target ve l'avevo twittato erano i 44 mila dollari e l'abbiamo preso in pieno 44 mila e 100 circa in contatto con la media 12 ema che per il momento ci ha leggermente stoppato il trend comunque non è non è c'è chiaramente questa candela per come è messa adesso è molto positiva prossima resistenza diventa se dovessimo superarla la zona della 26 ema che va in corrispondenza che con queste shadow e quindi capite che è una zona molto influente molto interessante per il breve termine perché perché mi piacerebbe vederla arrivare velocemente perché perché non perché dobbiamo fare questo ok non mi interessa vedere questa cosa mi interessa recuperarla il prima possibile per avere spazio necessario per poter invertire il trend daily e l'inversione del trend daily diventerà la base per poter proseguire in questa run ok se avremo continuazione chiaramente si possono disegnare tante strutture bisogno si può fare tante cose però per me è più interessante ragionare a livelli ragionare a momenti ok e questo è un momento critico è un momento che serviva a questo impulso per il momento è arrivato vedremo se ci sarà continuazione non do ancora il movimento recuperato finché non vedo recuperare il prezzo almeno in queste zone qua 47 48 perché perché 47 48 potrebbero andare a confermare questa zona qua come bottom e quindi come good by the dip ok quindi una situazione di by the dip corretta e quindi azzeccata altrimenti rimaniamo in una sorta di downtrend perché qui stiamo facendo low high low high low high e potremo continuare anche così ok nessuno lo vieta però il rimbalzo c'è stato gli altcoin hanno rimbalzato anch'esse molto bene dominance in correzione daily io ve l'avevo già anticipata questa cosa la dominance è in downtrend è di fronte a una resistenza dei 50 periodi e l'ha rispettata alla perfezione quindi 41 40 per cento drop della dominance che potrebbe continuare o a lateralizzare o essere ribassista non mi aspetto grandi situazioni di recupero da dominance in un mercato di questo genere ci ha abituato negli ultimi mesi a non essere più un parametro come lo era un anno fa le analisi vanno evolute non si rimane con le stesse idee in testa perché altrimenti si viene mangiati dal mercato quindi bisogna adattarsi alla situazione in corso per quanto riguarda nomi importanti che hanno avuto un bel bounce anzi prima di passare a quelli voglio fare vedere la market cap perché ritorna sui 2.7 trillions bene allontaniamoci più possibile dai 2 trillions questa zona qua è pericolosissima quindi fuori dai 2 trillions e continuiamo a crescere in market cap complessiva total quindi importante abbiamo visto un buon bounce anche contro il USDT di Ethereum anche se la coppia Ethereum BTC rimane in una condizione di debolezza anche essa rimane a contatto con la 12 EMA daily quindi rimaniamo anche qua leggermente scarichi fino a che non recuperiamo almeno la 50 vi direi qua e prosecuzione allora sì che l'aspetto si fa molto interessante e torniamo a essere molto molto carichi fino ad allora rimango in osservazione voglio vedere recuperare almeno gli questi livelli qua vi ripeto la 50 0.0 78 e 8 se no rimango sempre un pochino scettico preferisco entrare leggermente dopo questa è la mia idea poi chiaramente posso totalmente sbagliarmi piuttosto che rischiare di essere mangiato ulteriormente ok quindi mi raccomando la gestione Atom nome molto carico nome che ha dimostrato molta forza e chiaramente è uno dei nomi che ha recuperato più velocemente oggi sta facendo un altro più 685 Atom è molto carico ragazzi non mi meraviglierei andasse in Blue Sky Breakout se manteniamo la solidità se o meglio se andiamo a confermare una solidità di ripresa del mercato perché Atom è un nome che veramente è stato comprato in maniera aggressiva anche su questa dip è stata praticamente rimangiata quasi in v-shape recovery quindi vi fa capire che sono nomi molto cari che la stessa cosa ve la segnalo su Phantom altro nome di cui avevamo discusso che ha un andamento molto simile ad Atom ok dip molto profonda è arrivata addirittura a 2 dollari e 10 rimangiata completamente in due giorni addirittura quindi capite bene come si va a ragionare anche su questi nomi abbiamo visto una bella reazione anche di DOT nella giornata di oggi ma DOT rimane un nome comunque abbastanza debole quindi anche per DOT finché non vedo recuperati almeno queste zone qua dei 32-33 meglio ancora 35 e in versione anche qua del trend rimango un pochino in osservazione un po' sul chi va là detto questo ragazzi io spero abbiamo fatto una carrellata di un sacco di cose di avervi detto un po' tutto vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace quando questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento vi invito anche domani mattina al Morning with Crypto e domani c'è la live la seconda live settimanale dove approfondiamo un po' tutto questa volta speriamo sia alle 7.10 come da programma detto questo ragazzi vi saluto e vi auguro a tutti una buona serata ciao